Primi incontri in casa Taranto, finalizzati a definire le riconferme in vista della prossima stagione. A capo dell'area tecnica vi saranno ancora Francesco Montervino nel ruolo di direttore sportivo e Giuseppe La Terza in quello di allenatore. Nella giornata di lunedì un colloquio esplorativo tra le parti. Le firme sui contratti, probabilmente di durata biennale, dovrebbero giungere giovedì, all'indomani del parere della Covisoc, in merito alla domanda di iscrizione. L'organico che sarà in astri di partenza del prossimo campionato DC, quantomeno sommariamente, avrà l'ossatura di quello reduce dalla cavalcata dall'Interregionale. Nella lista dei riconfermati dovrebbero esservi anche Falcone e Guastamacchia, che prima dei rispettivi infortuni erano stati due dei pilastri del gruppo a suon di prestazioni giocate. Anche sul fronte atleti le firme giungeranno non prima di giovedì, ma non si esclude che gli accordi vengano raggiunti già prima. Al palio dell'area tecnica rosso-blu anche la sede del prossimo ritiro. Dovrebbe essere ancora l'Umbria a ospitare il gruppo ionico, ma non pietralunga come accaduto lo scorso anno.